Tutto pronto per il Sarzana Opera Festival, la manifestazione che porta in città il grande spettacolo della lirica. Un grande evento giunto alla ventitresima edizione che vedrà protagonisti giovani talenti e artisti di fama internazionale. Un'edizione straordinaria per numero, per diversità e per la qualità e lo spessore artistico e culturale. Un'edizione che è stato possibile realizzare anche grazie, oltre all'investimento, alla capacità di intercettare fondi all'esterno di questa amministrazione, in questo caso un bando del Ministero della Cultura. Sarzana Opera Festival rappresenta la cultura sarzana per come è legato alla città da sempre, ma per la sua capacità anche di proiettarsi al futuro e di promuovere oltre alla propria città le proprie bellezze, anche grandissimi talenti come quest'anno. Dalla Russia alla Sicilia il futuro dell'opera spesso, come quest'anno, passa da Sarzana. Una manifestazione che promuove una musica alta, colta, ma capace, come tutti i linguaggi universali, di emozionare chiunque. La lirica è un linguaggio universale, è un linguaggio italiano, di grande proporzione italiana, però è una musica che corre nel sangue, che corre nel cuore, che corre nella testa, tutti. Io sono sicura che lo studio, ma non solo lo studio, l'avvicinamento a questa disciplina sia veramente un momento di grande gioia per i nostri cuori. Se riuscissimo a seguirla di più, forse saremmo più tranquilli, forse saremmo più umani. Un evento che cresce, che diventa sempre più importante, che nasce a Sarzana, si espande in tutta la Val di Magra e che quest'anno per la prima volta arriva anche alla Spezia. Siamo molto contenti di questo, perché come manifestazione a Sarzana, come per la festival di Sarzana, siamo alla ventitresima edizione. E poi già abbiamo fatto diverse edizioni anche a Santo Stefano Magra. E ora quest'anno per la prima volta siamo alla Spezia. Siamo molto contenti di questo, molto orgogliosi. Ringraziamo l'amministrazione del Comune della Spezia che ci ha dato fiducia e portiamo una proposta assolutamente nuova, qual è questa di un'opera forum dedicata a Mozart e alla figura di Don Giovanni in particolare. Quindi saranno tre serate, sabato, domenica e lunedì prossimo, sabato in Piazza Verdi e lì sarà un concerto tenuto dai giovani cantanti che qui a Sarzana hanno frequentato la masterclass sotto la guida di un grande musicista, di un grande cantante, il maestro Natale De Carolis, che ha cantato in tutto il mondo di fama enorme, veramente mondiale, soprattutto per il personaggio di Don Giovanni. Poi la domenica saremo invece in sala Dante e lì ci sarà una lezione concerto tenuta da maestro Gamba che insegna la scala. E infine lunedì nella sala della provincia conclusione con questo esperimento nuovo, cioè parlare di Don Giovanni su tutti i profili, dello psicoanalista, dell'avvocato, del magistrato, del musicologo, una sorta di grande happening dedicata a Don Giovanni.